Nevicate straordinarie su tutta la città, temperature che dallo zero per tutta la notte e sino al mattino sono giunte anche a raggiungere meno 4 gradi sulla colonina di Mercurio e il Vesuvio imbiancato non è tanto immagine da cartolina ma presagio di nuovi giorni di gelo. Il grande freddo cala su Napoli e Campania ad esserne interessate soprattutto le zone dei quartieri collinari e le zone maggiormente verdi. Sui camaldoli e a pianura strade bloccate dalla neve con difficoltà di transito per i veicoli a quattro e due ruote. Disagi soprattutto per quanto riguarda l'acqua corrente. Numerosi cittadini anche in zone a quote più basse al proprio risveglio hanno trovato condutture gelate e nessuna possibilità di ricevere acqua né calda né fredda. Le fioccate sono proseguite nel corso della mattinata facendo prevedere una notte di capodanno più fredda del solito. Disagi anche all'aeroporto di Capodichino chiuso al transito aereo dalle 7.50 alle 9 del mattino a farne le spese per viabilità e sicurezza soprattutto l'area vesuviana con impossibilità di accesso per molte ore all'ospedale di Bosco Trecase.